Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video e allora prima di iniziare vi invito a lasciare un bel pollicione in su sotto questo video per supportare il canale. Allora, parliamo di Grande Fratello Vip, c'è stata una batosta clamorosa, c'è stato proprio un no per la partecipazione, quindi Franco Pini, vi dico subito che si tratta di lui, dice no. In pratica negli ultimi giorni si sono rincorse voci sui possibili nuovi concorrenti nel noto reality condotto da Alfonso Signorini, solo che recentemente il conduttore ha svelato un altro indizio e lo ha fatto con un video, si nota una donna indossare un paio di pantaloni. Ebbene, quei pantaloni si possono comprare nello store Haloa, la cui proprietaria è Carolina Marconi. Sarà dunque l'ex ceffina, una dei prossimi protagonisti, a barcare proprio la porta russa, quindi abbiamo delle conferme ma abbiamo delle smentite. Intanto sembrano prive di fondamento le varie indiscrezioni che andavano a parlare di un possibile rinvio dell'inizio del programma. Il problema, rappresentato dalle elezioni del 25 settembre, forse ha fatto un attimino ripensare bene ai vertici Mediaset, solo che alla fine resta tutto com'era, cioè nel senso che il programma inizierà il 19 settembre. I VIP saranno fatti uscire per andare a votare e al rientro dovranno rispettare un periodo di quarantena, quello per forza di cose. Nel frattempo l'ex opinionista Adriana Volpe ha polemizzato con Alfonso Signorini. Dopo aver saputo che non sarebbe stata più opinionista, lei ha ricevuto la proposta di diventare addirittura concorrente. Solo che ha detto la mia richiesta, la sua richiesta mi ha un attimino spiazzato, anche perché Alfonso conosce la mia storia, da lui non mi sarei mai aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me e quindi ha bisogno di lei, ecco quello intendeva. Sempre negli ultimi giorni era spuntato poi fuori il nome di Franco Pini come concorrente e la moglie ad Alberti ha però spiegato che l'attore non sarà nel cast, quindi erano soltanto dicerie. Ha ricevuto la proposta ma non ha accettato e questo ha svelato la donna. Poco dopo è arrivata anche la conferma del figlio di Franco Coppini, cioè Francesco, dicendo non ci sarà, non ci sarà. Al momento ancora non si conoscono le ragioni che hanno spinto l'attore a rifiutare la proposta di Alfonso Signorini, anche se alla fine se non vuole non vuole, non è che c'è altro da dire. Nel frattempo escono fuori altri nomi di vipponi che sicuramente vedremo nella casa più spiata d'Italia e parlo dello speaker radiofonico molto noto di Forum, Edoardo Donnamaria. A fare il suo nome è stato il sito fanpage che ha detto insomma che ci sarà nella partecipazione. Insomma staremo a vedere nelle prossime ore se arriveranno altre conferme ma può darsi che c'è l'opportunità che ci siano anche altre smentite. Insomma cercheremo di capire man mano che passeranno i giorni e che si avvicinerà all'inizio del programma chi effettivamente ci sarà nel programma. Questo è tutto, un saluto grande da Max, noi ci becchiamo alla prossima, mi raccomando vi aspetto o su Facebook o su YouTube per un prossimo video. aspetto a kicker aspetto a questo video. aspetto a tutti i giorni e rischi